La tre giorni è anche l'occasione per una riflessione più ampia sul ruolo sociale dello sport, un esempio il quartiere Archie con un progetto promosso dall'Associazione Polo 9. Allora partiamo da questo servizio di Annalisa Serpilli. Il tema di questa edizione è l'inclusione sociale ed è proprio il tema che ci ha consentito di vincere in una selezione molto competitiva a livello europeo il finanziamento da parte del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. 500 mila euro dall'Europa più altri 120 mila euro cifra a ribasso finanziati dal comune di Ancona. Oltre alle gare in cui sono impegnati i mille atleti, gli youth game di quest'anno prevedono anche una serie di incontri dedicati a ad esempio la parità di genere, la disabilità e oggi ad esempio il ruolo delle città per migliorare le condizioni sociali di vita di giovani e meno giovani e soprattutto un'altra serie di temi trasversali tra cui ad esempio il rispetto dell'ambiente. L'iniziativa si inquadra in una riflessione più ampia. L'Italia manca ancora di una legislazione in grado di definire il ruolo sociale dello sport così come richiesto dal libro bianco del 2007 della Commissione Europea. Si moltiplicano però le esperienze dal basso in grado almeno parzialmente di sopperire a questa mancanza. L'infrastruttura immateriale dell'associazionismo sportivo dilettantistico in Italia è davvero una risorsa importantissima che molto spesso, soprattutto nei territori più difficili, nell'area interna e nei territori più periferici, sopperisce appunto a volte alla mancanza di politiche pubbliche. Un esempio è il progetto EduCalci che ha visto protagonisti giovani abitanti del quartiere Archidi Ancona con sostegno della stessa amministrazione comunale. Abbiamo avviato attraverso lo sport, attraverso un torneo di calcio per i minori del quartiere, in realtà un progetto di rigenerazione urbana, di riqualificazione e innovazione non solo educativa ma anche sociale per il quartiere.